Buongiorno e bentrovate a tutte e a tutti. Io vorrei iniziare i miei saluti ed è un onore portare oggi qui i saluti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e di tutta la comunità forense milanese. Ringrazio quindi tutte le autorità, le istituzioni presenti, tutti gli ospiti e relatori nazionali e internazionali e tutti voi qui presenti sia in aula che online. Faccio anche un saluto agli ospiti stranieri dicendo che on behalf of on the Milan Bar Council of which I have the honor of being the newly elected president and personally I would like to extend a special thanks to all our international guests and a warm welcome in our beautiful city. We hope to leave a lasting impression of Milan as the Italian Hub for Business and Legal Affairs. Vorrei ricordare insieme a voi una data che abbiamo segnato in rosso sul calendario e che è un po' il punto di partenza di questo percorso che ha visto tutte le forze del mondo professionale, accademico, imprenditoriale coinvolte verso un obiettivo che è quello di fare diventare Milano centrale in questo percorso del Tribunale Unificato dei Brevetti. Questa data è il 2 maggio del 2019 che segna il primo incontro del tavolo tecnico che è stato già citato, che è stato promosso dalla Corte di Appello di Milano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Da allora il tavolo tecnico che è mirabilmente coordinato, come è stato già detto dalla Presidente Marina Tavassi, grazie al mondo delle professioni, quello accademico, quello delle aziende, ha coinvolto un gran numero di istituzioni ed è questa la vera forza del progetto. Solo per citarne alcune, oltre all'Ordine della Corte d'Appello, l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Regione Lombardia, il Comune di Milano, il Centro Studi Grande Milano, Asso Lombarda tutti hanno svolto un lavoro importante, delicato e complesso. L'Ordine di Milano, e per me questo è un grande orgoglio, ha sempre supportato e sostenuto convintamente la candidatura di Milano ad ospitare la sede vacante della divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti. In questo do l'atto del fatto che anche il Presidente Danovi prima e il Presidente Nardo poi, prima di me, hanno convintamente supportato questo progetto. Adesso siamo giunti all'ultimo miglio, perché dal primo giugno il Tribunale Unificato dei Brevetti entra in vigore, partirà, quindi l'auspicio è che l'attribuzione della sede, delle reative competenze, della sezione della divisione centrale, si faccia sempre più vicina per Milano. Abbiamo sempre parlato di Milano come scelta naturale. Milano è la scelta naturale per il Tribunale Unificato dei Brevetti. Continuiamo a sostenerlo con una forza che è la forza dei numeri che raccontano la qualità della nostra città e la sua capacità di innovare, ma la sua capacità di essere innovazione. Consideriamo che nella città metropolitana di Milano sono attive circa 300.000 imprese, che corrispondono quasi al 40% delle 800.000 imprese lombarde e poco meno del 7% di quelle nazionali. Qui a Milano vengono registrati il 33% dei brevetti e si effettua il 27% della ricerca scientifica. Avere una sede della Corte centrale sarà per il nostro Paese motivo di orgoglio. Ci sarà un indotto economico che è stato già stimato in circa 350 milioni di euro ed è sicuramente da considerare anche il vantaggio che l'intero Paese trarrebbe in termini di valorizzazione delle professionalità che ruotano attorno a questo settore. In quest'ottica di fattiva collaborazione il nuovo Consiglio dell'Ordine ha costituito un'apposita commissione IP e antitrust con un comitato interno che è dedicato proprio al Tribunale unificato dei brevetti. Nella chiara consapevolezza che la cooperazione rafforzata tra i Stati membri dell'Unione Europea nel settore dei brevetti debba essere considerata strategica nell'ambito di un processo di lungimirante condivisione. Quindi oggi è arrivato il momento di rendere realtà piena e operativa questa grande opportunità per Milano e la permanenza nel sistema dell'Italia, nel sistema del Tribunale unificato dei brevetti non può essere in alcun modo messa in discussione. E' per questo motivo che credo che oggi tutti gli attori coinvolti in questo progetto debbano essere visti come una voce unitaria e quindi Milano deve diventare unico faro per la scelta per il nostro Paese. Grazie. 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 Grazie.